Ah raga quanto siamo belli questa maniera di Giro Terminale Attenzione, il momento decisivo, come scenderanno i nostri eroi? Buon day, benvenuti in questo nuovo video Mi sono tinto i capelli raga, fatemi sapere già nei commenti se vi piacciono Sono tornato biondissimo come un tempo Noterete appunto che nel video i capelli sono ancora lunghi e non sono ancora tinti E' perché questa clip la sto registrando dopo aver registrato il video Non so se mi sono spiegato bene, spero di sì Lasciate già un bel mi piace Vi faccio una breve intro per dirvi che questo è un video speciale per me Perché ho passato una giornata intera insieme a una ragazza che mi segue, ovvero una di voi Ho fatto storia su Instagram, se non mi seguite seguitemi Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Dove chiedevo appunto chi fosse di Milano e gli sarebbe piaciuto fare un video insieme a me Faccio anche questa intro per dirvi che comunque la ragazza che ha fatto il video con me è una ragazza che mi segue Non è una ragazza che fa video quindi logicamente non è spontanea come me davanti alla telecamera Quindi magari se vedete che non parla molto non incazzatevi nei commenti Logicamente non è abituata a stare davanti a una telecamera quindi si sentiva un po' in imbarazzo E ci sta, è normale Ho intenzione di portare almeno un video al mese o un video ogni due mesi insieme a una di voi Quindi se vi va scrivetemi su Instagram Avevo già registrato un 24 ore ammanettato mesi e mesi fa Quindi non venitemi a commentare sotto Hai copiato questo, questo e quest'altro Perché il primo video 24 ore ammanettato l'ho fatto tipo a gennaio, febbraio Quindi un sacco di mesi fa Ho preso l'idea da video che ho visto di Cameron Dallas di 2-3 anni fa Dove passava appunto la giornata intera ammanettata a una sua fan Mi sono messo nei suoi panni, nei panni della fan Ho detto a me piacerebbe un sacco passare una giornata intera insieme a una persona che seguo Perché non farlo anche in modo divertente stando ammanettato E quindi ho deciso di realizzarlo Spero che vi piaccia Commentate con hashtag petacolo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di questo genere E volevo ultima cosa ringraziarvi perché l'ultimo video sta andando alla grande In soli tre giorni ha raggiunto Adesso guardiamo Quasi 400.000 visualizzazioni e più di 25.000 like In tre giorni Quindi grazie davvero tanto Vi raccomando spingete anche questo video Condividetelo in ogni gruppo whatsapp Qualsiasi contatto che avete E mandatemi lo screen su instagram Che io contatterò in direct qualcuno Un bacione e vi lascio al video Buon day Oggi siamo qua con Priscilla Ciao Che passerà un'intera giornata con me E saremo ammanettati Quindi ogni cosa che faremo Dove andremo Emo in giro ammanettati Quindi la difficoltà sarà alta Però sarà anche divertente Quindi tiro fuori Le manette Gabriele assistente Lasciate già un bel mi piace Ciao Allora ci devi ammanettare Te preferisci usarla Adesso o la sinistra? Ok quindi mi metto di fondo Vado? Vai Stringo? Non tanto Dimmi se ti piace Basta Va Fra Fra Allora E' la prima volta che ammanetto qualcuno Una volta ho ammanettato Giuseppe Non vi dico dove E non vi dico perché Mi fa male? Dirigiamo di me no? Prendo una emile se no Ce l'ho in magazzino Ok andate Non vi dico dove Ah cavolo mi sono mintato Questa è una emile se no? E' una emile se no? E' una emile se no? E' una emile se no? Oh ce l'ho fatta raga Incredibile 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 Allora ragazzi questa è la maglietta a petacolo Trovate il link in descrizione per acquistarla Mi raccomando Grazie Ah raga quanto siamo belli questa manetta in giro per Milano Adesso stiamo andando a prendere un bel bubble tea Perché te l'hai provato il bubble tea? No mai Mai provato il bubble tea quindi Giuseppe oggi fa provare bubble tea Praticamente è un tè freddo Ciao Ciao Vai vai Quella non la volete fare? Super famosa C'è la menta l'acqua Ma ci sono un po' di difficoltà nel camminare con queste manette Oh hai fatto le tue prime foto E' emozionante Oggi facciamo un sacco di prime cose Primo bubble tea, prime foto Stavo dicendo il bubble tea è un tè freddo Dove ci sono delle bolle dentro Che ti scoppiano in bocca E le lasciano tipo un gusto Cioè in base a quello che prendi ti lasciano un gusto Ok proviamo Commentate se avete mai provato un bubble tea Perché io sono curioso Raga niente bubble tea perché c'è troppa coda Gabri Eh Non te l'hai mai provato il bubble tea? No Non me lo sbaglio Eh ma raga ma stiamo sfigati Non è chiuso? No È aperto? È giusto o no? Ma a me sembra chiuso raga Raga Arnold è chiuso Dove andiamo? Ah Volevo il bubble tea Niente bubble tea per prescindere Cioè Allora cosa vuoi fare? Seconda te hanno buonetane e non ci vanno manettate? No Perché ci hanno manettate e hanno buttato la piazza Eh non per te Ce l'hai all'angis? Sì allora io all'angis E scusa quello è al fenicottero o che gusto è? No è cosa? Al fenicottero Sai prendere un fenicottero o tritano? Gabriela Qua è un misto di tutti Ti prende il portafoglio? No Guarda ti mostriamo un barretto Questo qua è speciale Non so se ne hai mai visto in giro Non sapevo se ne ho visto in giro Non sono provocati Dici uno può pensare Vediamo solo sul piano Ti piace? Sì ho visto un piacere Sono molto contento Io sono un ballerista Hashtag ballerista Ma me riconosci tu? No E lui? Tu lo conosci? Fa una cosa Vabbè tanto ci ha abituato Buona è buona Ti piace? Buona è buona Perché se non ti piacere Te lo mangio lo stesso Ok A te ti piace? Sì Non me ne frega Di qualcosa Qualcosa Ma io ma come me lo porto? Come ti togli lo zaino? Non lo togli Te lo tolgo io? Domani Non lo so Prima l'ho visto Ma era A me non sembra Il proprio Puglia No 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 Ma 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 Sono andati a fare aperitivo Però ci siamo dimenticati di riprendere Siamo sempre ammanettati Siamo venuti qua Per chiudere il video Perché è un posto un po' Un po' tranquillo Allora vi lascio un nome di Instagram Come è che ti chiami su Instagram? Priscilla Zanardi Priscilla Zanardi Vi esce fuori qua Mi raccomando Andatela a seguire tutti Se no mi incaccio Gabriele ha fatto la candela Per tutto il tempo Guarda come so fare il candelabro Guarda Mi piace bene Eh Fantastica Questo lo so fare solo io in tutta Italia Non è che Non è che dici tu No Non me lo sbattere In fronte Soprattutto che Mi vengono i bernoccoli Mi vengono Basta Finito con ciao Finisce qua il video Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Qua cosa dobbiamo fare? Non vuoi andare sullo scivolo Sicuro eh Guarda che lo scivolo Un'emozione pazzesca Indoppia Devo iscriversi al canale Bravissima Però io direi 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 che se non fate lo scivolo Non è bello il video Ma ci spacchiamo i polsi Facciamolo Quello è un problema tuo E come scendi E come si sale? E come si scende Come sali scendi Solo così Attenzione Guarda che di là c'è la scala Ah ci sono le scale Sei intelligente però Oh guarda che Chi è che ti ha dato la patente? Grazie Autoscuola verbana No Sai come si chiama Autoscuola corna verbana Corna? Perché corna? Si vede che mi conoscevo Attenzione Il momento decisivo Come scenderanno i nostri eroi? Di faccia? Ok allora io scendo così Attenzione Sembra un provolone piccante Quello di nonna Ti giuro Uguale Appeso Tu devi rimanere appesa Scendi insieme Dovete scendere insieme Attenzione Vai Mettiti a trenino E non ci sto Sì sì vai vai tu Ma non ci sto Ti fidi di me? Priscilla ti fidi di me? Fai male a fidarti Ecco Vado? Vai vai Scendi che è morbido Buttati Mi sei No si è rotta Si è rotta La manetta si è rotta Attenzione E ora? No La manetta si è rotta Eh Devi scappare Allora finisce qua Perché ovviamente Non si può continuare Noi volevamo fare 24 ore Ma purtroppo non è possibile Perché sono rotte le manetta Questa non è possibile Potresti comprare un altro Un altro Un altro Compre un altro Compre un altro Tra le 9 di sera dove? Guarda se ti fai il restare Te le danno grazie Tu no Non dici? Eh dici Dici Dico Sono G Sei un ballerista Ballerista Mi raccomando Merchandising In descrizione Vi lascio il link Potete acquistare Magliette Cappellini Felpe Top per ragazze Hashtag Che spettacolo E poi una cosa La devo fare per forza Non riesco mai a fartelo Chiudiamo il video Non riesco mai a fartelo Ora mi paghi Quanto? Quanto vuoi? Ti denuncio Tutti arrestano davvero Il video termina qua Mi raccomando Seguite Priscilla Su Instagram Basta dirlo E basta dirlo Ciao Ciao